Ciao a tutti, io sono Ferrayon e questo è il secondo video, siccome il video è avuto uno, non mi piace alcuno, ho detto dai vabbè facciamo questo secondo video e vediamo, magari l'audio va meglio perché mi scuso veramente, in quello prima non si sentiva niente, è stato un po' imbarazzante però perché ho cercato un po' di risolvere. Spero che adesso si senta meglio comunque, si dovrebbe sentire meglio, intanto questa ganda perché carica ancora nel mondo e dov'è che avevo lasciato le mie robe? Ah non ho neanche fatto una fornaccia, vabbè dai, iniziamo bene. Allora oggi voglio andare in caverna, non so quanto, 15 minuti così, non tanto, così per trovare un po' di ferro, carbone e magari, magari, trovare anche un po' di oro, redstone o lapis lazuli. Per adesso il mio obiettivo è semplicemente trovare qualche materiale decente, infatti là ho visto un po' di carbone, quindi adesso vado a prenderlo. Ok, subito. Sì, lo so fatto. Chiudi. Andiamo a prendere il carbone, sperando di non fare un sale. senza neanche laccare magari che sai com'è vediamo tutto è un momento parliamo un po' di attualità avete sentito dell'attentato ai giornalisti a Parigi ma anche dell'attentato che hanno fatto ieri in ma sembra a Parigi adesso ci sono gustaggi ho sentito che ce ne dovrebbe essere neanche un italiano quindi che bello ah signore vabbè guardate cosa ne pensate pensate che sia non so una brutta cosa pensate che l'ISI dovrebbe essere fermata non so esprimete i vostri pensieri ok scusate ho fatto una piccola pausa e questo andiamo a cavare e non vedo dai prossimo voglio fare ancora un po' di cibo e legna che non ho ho ancora quale legna aspetta facciamo un'ascia è un'ascia spada quindi così 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 e non fare l'inforo quella così o quella così o quella così o quella così ma dai questa allora allora quant'è che mangio si doveva fare il cibo doveva fare il cibo ma vabbè non è cosa svolta e dai tra l'altro devo anche trovare un saluto per il canale finché non trovo gli iscritti già finché non ci saranno iscritti o non piacerà la serie non farò un saluto però se magari va avanti potrei anche saluto tipo così simpatico però vabbè e cosa devo dire e stivalvi risultano molto legna perché c'è tipo fai uno stack di roba distruggere non demono che è ottimo come coppia si cade ecco e ok e questo ok vediamo lo sudore è fatto costantissimo vogliamo si ha così poi tre stack dovrebbero essere sì più o meno si diciamo che siamo insieme adesso andiamo a uccidere un pollio un povero oh abbiamo la famiglia di polli e di mojali bene maiali i mojali i mojali saranno sempre le prossime creme danno un po' di carne e lasciamo 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 papapapu andiamo qua chiudiamo il maiali ok andiamo to 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 eeeh mettiamo cuocere dopo andiamo intanto continuo un po' a costruire a casa quindi si in sta parte la taglio eeeh ok diciamo che sono pronto per andare in caverna adesso faccio le torce e poi andiamo facciamo sì dovrebbero andare bene 36 dai allora c'è una perna intanto aveva fatto così che sembra un po' stile gelato vabbè andiamo senza prendere danno comunque dunque dunque qui niente andiamo a vedere qualche altra parte vediamo 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 e lag ancora per il mondo e tutto è un fastidio perché di solito va bene invece qua adesso devo ricaricarare il mondo quindi lag va bene vediamo qualche cavernuzza vediamo ok 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 in alto vediamo guarda che vediamo qua tutto tutto il mio prossimo un più se va un tempo più 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 Grazie.